Se il Movimento 5 Stelle ed il sindaco della capitale Virginia Raggi dovessero dire ufficialmente no allo Stadio della Roma, non è un problema, perché si potrà fare in un'altra località dove ci sono accaniti tifosi giallorossi. Che ne pensate ad esempio allo Stadio della Roma in Abruzzo, anziché nel Lazio? Un cittadino di Pettorano sul Gizio, Domenico Ventresca, mette a disposizione i propri terreni nella frazione di Vallelarga per realizzare la struttura. Sì, proprio così, la proposta è stata diffusa tramite un messaggio audio su WhatsApp che il diretto interessato intende divulgare il più possibile affinché si possa dare concretezza all'iniziativa. Tifosi della Roma, di tutta Italia, isole comprese, non vi preoccupate, lo Stadio si farà in Abruzzo, nei miei terreni. Domenico Ventresca ha già parlato con i suoi amici nel paese di Pettorano sul Gizio. Mettiamo a disposizione gratis tutti i terreni, i miei in particolare, per fare lo Stadio della Roma. La Roma giocherà in un stadio in aperta campagna, bellissima, l'aria aperta, potranno respirare ossiglio e non smog e magari potrebbe essere anche il segreto per vincere le partite. Il paese è ubicato a un'ora e mezza da Roma, avrebbe anche l'opportunità d'inverno per mandare le famiglie a sciare a Roccaraso ed estate per andare in montagna a rispettare a Capura. Tra l'altro c'è già un particolare, la casa dove abito è dipinta con i colori giallorossi, i giallorossi del primo colore arancione della Roma del 27, quando Don Silvio Sensi riunì tutte le squadre che erano a Roma e fondò la AES Roma il giorno 13 luglio 1927. Se a Roma regna l'incertezza sulla proposta dello stadio a Tordivalle, Domenico Ventresca ritiene che chi ha la fede giallorossa debba far qualcosa pur di non far cadere nel vuoto l'iniziativa. Ma ci sarebbe lo spazio necessario per creare una struttura del genere? Abbiamo tanti etteri a disposizione per fare uno stadio come quello che James Pallotta e i suoi uomini hanno progettato a Tordivalle. Il pieno dibattito in corso a Roma sta suscitando pertanto reazioni e chissà se questa provocazione possa indurre ad un ripensamento dei pentastellati ed in particolare del sindaco Raggi a realizzare lo stadio a Tordivalle. Lo facciamo a Valle Larga. Forza Roma, sempre forza Roma.